Si chiama Umberto Danna ed è l'autore di un libro molto particolare che si intitola invece In un cerchio di vita. Vediamo. È un racconto di dolore e sofferenza ma è un messaggio di speranza quello che Umberto Danna ha lasciato a Sarcedo a Villa Cadotta, la presentazione del suo libro In un cerchio di vita, la testimonianza di chi da 35 anni combatte contro la tetra paresi spastica e i pregiudizi che ne derivano, raccontando la realtà dal punto di vista dei diversi. Una platea attenta di genitori, familiari, amici, colleghi di lavoro, dirigenti scolastici, autorità, associazioni di volontariato, ma anche chi ha condiviso il difficile percorso di Umberto, in primisi il dottor Maioni specializzato in chirurgia infantile che ha avuto un ruolo fondamentale nel suo processo riabilitativo, ha ascoltato le sue parole e la presentazione di Gigliola Trentin. Vicino a lui i genitori, la moglie, chi lo ha seguito nel suo percorso dai 3 ai 18 anni, tra la dottoressa di Ghiaccio e il secondo creatore che lo smontava e rimontava pezzo per pezzo, denti interventi in 19 anni. Questo è un libro arrabbiato ma delle obiezioni altrui non me ne può importare di meno, dice lo scrittore, anzi più situazioni forse ha, meglio sarà riuscito. Sono come un prigioniero che guardando il mondo dietro le sbarre si accorge di quanto sia ricco e vario pinto, molto meglio di coloro che ci vivono.